Ciao ragazzi, se volete ottenere tono e compattezza dai vostri tricipiti e sostenere e scolpire al meglio i vostri pettorali, questo è l'allenamento che fa per voi. Cosa ci occorre per questo workout? Abbiamo bisogno di uno step, di due maniubri, un elastico tubolare e il tappetino. Io andrò ad effettuare un allenamento per andare a lavorare sulla forza resistente, quindi io lavorerò sempre utilizzando un carico inferiore al 40% della mia ripetizione massimale. Eseguirò le ripetizioni abbastanza in modo veloce e ne eseguirò circa 20-25. Io imposterò il mio timer su 40 secondi e diciamo che a grandi linea le ripetizioni che si riescono ad effettuare in questi 40 secondi sono circa 20 e andrò a riposare 10 secondi. Ma se ritenete che il tempo di riposo sia troppo breve, allora riposate il tempo necessario. Io eseguirò un unico round, però voi a casa per rendere questo allenamento completo dovete essere in grado di eseguirne almeno tre, così questo vi consentirà di ottenere il meglio da questo workout. Siete pronti? Andiamo pure! Siete pronti! 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 Siete pronti!